La grande vetrina del Festival di Sanremo per la prima volta ospiterà un territorio toscano, ospiterà il Mugello. Proveremo a raccontare storia, cultura, buon cibo di questo che è uno dei più bei territori della nostra regione. Lo faremo portando le eccellenze culinarie del Mugello. Lo faremo anche sostenendo un'iniziativa che è quella di continuare a tenere alta l'attenzione su quanto accaduto purtroppo pochi mesi fa nella piana fiorentina. E quindi uno dei piatti sarà la pecora che è proprio il segno di riconoscimento di questo territorio. E' anche questo un modo di saper tenere insieme storie, arte, cultura, bellezza, buon cibo, ma anche il valore, quello della solidarietà che è un valore proprio della Toscana. Beh sì, per noi è una grande occasione di promozione territoriale. Il martedì 6 febbraio gestiremo il ristorante di Casa Sanremo. Proporremo una serie di piatti tipici del nostro territorio. Quella per noi sarà l'occasione per parlare delle bellezze del nostro territorio. Non solo la parte enogastronomica, che è pure molto rilevante, ma l'aspetto culturale, il buon vivere, la natura che circonda ogni abitato del Mugello. Insomma, per noi sarà l'occasione per proiettare la nostra dimensione territoriale in una arena ampia, nella festa italiana, qual è quella di Sanremo. Sicuramente il piatto principale saranno i tortelli mugellani, che caratterizzano un po' tutti gli elementi del nostro agroalimentare del Mugello. Come anche le carni allevate, quindi ci saranno delle battute di carne da assaggiare. Però è anche vero che il nostro proporsi come Mugello vuole anche tenere alta l'attenzione su quello che è accaduto sia in Mugello che nella Piana. E quindi i nostri piatti saranno anche abbinati con la pecora in umido per ricordare, insomma, anche di porre l'attenzione su territori come Campi Visenzio. E quindi una vetrina importante, internazionale, sì, di comunicazione, ma che alla fine servirà anche nella preparazione dei pasti, anche per far vedere che i nostri territori dell'area metropolitana sono uniti. E quindi anche con Regione Toscana e il Consiglio regionale non andiamo, diciamo, in ordine sparso, ma siamo tutti un elemento di un sistema importante che è quello della nostra Regione Toscana, insieme ai territori dell'area metropolitana e del Mugello. Vediamo quanto è preparato sul festival di Sardegna, che piatto, non so, il tortello lo abbinerebbe ad una canzone anche del passato che ha partecipato al festival? Allora, potrebbe essere a perdere l'amore, perché comunque è un piatto un po' che va bene per tutte le stagioni. E quindi perdere l'amore è anche una canzone massicuranea, ma a me piace molto, però si abbina sempre nel momento del festival. Sì, voglio dire, all'interno di un'iniziativa meravigliosa che è la rappresentazione dei nostri prodotti mugellani all'interno di un, direi, dell'evento nazionale, che è Sanremo, non potevamo dimenticarci i campi e quindi abbiamo pensato di investire su questa iniziativa, ricordando appunto quegli eventi straordinari che purtroppo sono accaduti nel nostro territorio, portando tutti i prodotti di questi territori, diciamo, stati colpiti. E quindi abbiamo Mugello e Campi. Io ringrazio tutti perché la disponibilità è stata, devo dire, totale e credo sia una piccola magra soddisfazione poter fare qualcosa di piccolo e speriamo che tante cose piccole facciano qualcosa per questi territori ancora colpiti, ricordiamoci.